Se la lancetta della benzina sulla vostra cara automobile segna riserva, affrettatevi a fare il pieno di carburante e fatelo in fretta perché dalle 22 di stasera scatta il coprifuoco nonché lo sciopero indetto dai benzinai, proclamato contro le società autostradali e le compagnie petrolifere. E questa volta non parliamo mica di 24 ore, e no, perché senza benzina ci rimarremo per 56 ore, fino alle ore 6 di venerdì. Il grande sciopero interesserà le aree di servizio poste lungo tutte le tratte autostradali, tangenziali e i raccordi, vani i tentativi di mediazione volti a scongiurare la protesta e i moniti del garante per gli scioperi e del governo. Ma il problema sembra essere proprio il governo e la sua indifferenza. Confesercenti e Confcommercio spiegano infatti che la rete ha perso il 50% delle vendite per colpa di politiche dei prezzi sbagliati, mettendo a rischio 6.000 posti di lavoro. Nonostante la presenza di un accordo, infatti, i concessionari delle tratte autostradali hanno visto incrementarsi in modo sproporzionato le royalty pretesi su ogni litro di benzina e gasolio venduto in autostrada. Questi i motivi dello sciopero e delle immese code che troveremo ai benzinai stasera.